bentornati a patchwork io sono valentina ed oggi proveremo insieme a costruire un porta spazzolini con le bottiglie di plastica prima di ogni cosa prendiamo una bottiglia grande di plastica e la tagliamo nelle due estremità tagliate le due estremità adesso passiamo ad incastrarle l'una nell'altra unite le estremità della nostra bottiglia adesso prendiamo le bottiglie più piccole e creiamo le fessure per inserire gli altri spazzolini adesso andiamo ad incollare sulla nostra bottiglia adesso creiamo il foro per inserire i nostri spazzolini e il dentifrice adesso andiamo ad inserire i nostri spazzolini con il dentifricio questo è il nostro porta spazzolini ultimato è facile e veloce da fare provateci anche voi vi aspetto alla prossima puntata di patchwork ciao